E' la voglia, ci siamo, siamo in onda, in onda, prendiamo ancora, buon anno, salute, con il professor, il professorino, il professorone, invece che il dottorino, il professorino, ma non solo professore, che poi tra l'altro è uno dei più grandi fan, extra cittadino, perché di Roma, perché di Roma, a causa mamma trasferita in pensione a Civitavecchia, siamo diventati, come quelli che vanno in Riviera Ligure, lei è venuta da qui e io sono diventato Civitavecchiesa a tutti gli effetti, da adozione, e quest'estate per caso sono capitato sui vostri video, ai tagli sono diventato politicamente scorretti a Dictive, ormai professore in? Storia contemporanea, è una parola grossa, siamo uno dei tanti pregari, aromate le scienze politiche, ho tanti assistenti, un saluto agli studenti che mi vedranno, stiamo sempre in servizio in qualunque parte d'Italia, noi, ad Interim, niente, quindi, ci troviamo, un saluto a Mattia, ciao Mattia, orfani di Mattia, che non è resistito al Capodanno, uno dei tanti vittime del Capodanno, non ce l'ha fatto, non saremo il suo padre, stiamo col Brondi, stiamo col Brondi, mani in Italy, viva il Mani in Italy, ciao ciao, insomma, abbiamo portato dal professore delle scienze politiche come fan, perché a qua serve uno scienziato per prendere quello che succederà nei prossimi mesi, dalla primavera in poi, qui succede di tutto. Voi ci stiamo a preparare, nel senso che fra campagna elettorale, già qualcuno ci ha pure detto che presentatevi, ma voi che presenterete? Vi presento, sono Marco Corinto, è il Nato del Maggio, io se presentavo così, io so, ma non dovrebbe fare, perché poi potrebbe finire la magia, però, siete sporcati, infatti è quello il problema, io non me lo vorrei sporcare, o favo una cosa, se ne trattavo come protesta, noi, 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 se ne trattavo con nessuno, stavo con noi, e il sindaco lo sceglie, ma a caso, favo così, anche i voti, ormai se ne montano vicini insipietro, insipietro come la prenderebbe questa cosa? Allora, che si vediamo, ce ne ha mandato un più taglio, perché da una parte, lui, potrebbe, oh, venire, da me, se no, da una parte, manco fa fine intervista con noi, manco, ho capito, non ce ne vede più, non ce ne vede più, ce ne vede il muso, se potremmo fare. Che invece, Marietta, invece, non vi... Allora, Marietta, noi, sapevamo che ci stava... A mia amica, tu Facebook, che saluto, eh. ...antipatici, invece, lei ha smentito, dalle voci di Annalisa Tommassini, che diceva, invece, no, ci ha pure mandato, ci ha pure scritto, guarda qua, ok, 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 ok. Annalisa Tommassini, perché sono sull'acqua, problemi dell'acqua, perché chissà quando c'è da far zizzagna su tutte le nostre... Anche se un vero esperto sull'acqua è Giannini, è un altro, è un grandissimo, un grandissimo. No, sa tutto, professore, sa tutto. No, Giannini mi ha aiutato sulla questione del wifi a città vecchia, volevo sapere come funzionava. Ma voi le hai sbagliate, bravo. Eh, lo so, lui mi ha detto che aveva chiesto, quando ancora stavano forse in valianti forti, mi ha mandato una mail, Stefano è sempre molto carino, è un grande. Non è voto di scambio, mamma, mamma, mamma vota Stefano Giannini come consigliere comunale, lo dico già adesso. No, ecco, stiamo pure a fare campagna elettorale. Se Stefano questo è altro. No, però, capito, il bello è quello, ci scriverà, già ci ha detto, scriverà un libro sulla storia politica di cività vecchia, perché ci vuole veramente uno scienziato per capirlo. E poi abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche Enrico Ciancarini, che è un altro grande, abbiamo avuto un bel colloquio, abbiamo qualche iniziativa pure con Enrico. Ah, hai capito? Si, si, perché Enrico Ciancarini è un altro grande, si, si, è uno storico con i Fiocchi, società storica di Città vecchia, si fa tanto, che ha una storia importantissima e molto, molto affascinata. Come vedi, ce lo devono dire i Romani, sempre come lo Svizzero, grande Bisozzi che salutiamo, che scrive il Romano che ci dice la storia. Noi da soli, queste cose, se si sapevo di niente. Ma noi, di lei basta di cercare il potto. La frittura di pesce. La frittura di pesce. La frittura di pesce. La frittura di pesce. Esatto. E il Santa Marinella di Mattia. Esatto. Manco ci vediamo. Manco ci vediamo. Eh, siamo da via. Allora, iniziamo così, mi piace vedere così. Guarda un po' che belli che sei ero. Però, ci ha fatto un gran piacere. Oh, è un professore. Un professore. Anzi no, un precario. Però un professore universitario. C'è anche Zeus. C'è pure il Zeus. Zeus. Viva, dopo la mia zagna animalissima. Ha detto che si ha capito un po' le puntate. Se le ha fatte a scoppio di quando non ha dormito per tre giorni. Ho fatto una volta per essere aggiornato tutti. Perché qua è peggio da andare in novela. Però aspetta, tu oltre ad essere professore, non fai pure la radio? Sì, intervengo in qualche radio, in una radio web. E poi su Radio Roma Capitale. L'astra dei quartieri, dei delitti di Roma. Sì, sì. Ah, i delitti? I delitti di Roma e dei quartieri di Roma. Non ne faccio mancare niente. Sono abbastanza ecocentrico. Ecocentrico o... Non c'era capito. Enocentrico. In senso buono. In senso buono. Oh. No, no, ma mai in altri studenti lo guarderanno. Non sarei... Beh, studentesse magari. Speriamo! Salute studentesse! Grande strima. Guardate quanto è bello Marco uno studentesse di... Beh, bello qui è Marco. È bello del po' controllo per perdere il treno se no non torno più ma questo è il treno dei pendolari a Civitavecchia e nei sindaci hanno fatto uno degli ultimi parlandone da vivo, uno degli ultimi azioni che vinci Pietro con tutti i sindaci anche del circondario però hanno preso quello troppo presto ma se no te chi ti vince tu che sei uno scienziato politico non sappiamo chi si ricanda Pietro si ricanda e Pietro è il caterpillar al ballottaggio ci arriva sempre Moscherini si ricandida da solo potrebbe candidarsi un grossi dicono provincia il giornalista che sono anche vostro ospite in una delle linee bravo la provincia poi zizzagna lì è proprio zizzagna poi c'è stata la riunione ma hanno pure invitato salutiamo al 19% che la sede sta dove abita mamma Pietriese tutto in vetrina ciao mamma ciao mamma sempre mamme ciao mamme perché poi la cosa è importante io ho lanciato la cosa dopo le prostitute in vetrina di Amsterdam i politici in vetrina di Civitavecchia e io ho scritto Davide Bocrello quando fatevi uno ne mettetelo che brutto che salutiamo consigliere regionale in quota 5 stelle uno dei due perché l'altro è Gino De Paoli Gino De Paoli sono due e Selle che fa e Selle ha creato tutto sto bordello Selle è un casino Selle è un casino quindi sono due mesi che a Pacificano io so che hanno cercato di trovare candidati poi c'è il Deus Ex Machina Pasqualino che fa dall'alto spende il nome per grossi queste sono tutte chicche che vedo indiscrezione la mamma le ha detto che poi si parla anche del presidente della carica che potrebbero candidare ha detto di no ha detto di no quello metterebbe d'accordo tutti forse sì ma ha detto di no e ha dato un altro nome che adesso non mi ricordo però non voglio dire troppo se non mi taglia nella lingua poi smetto di far futtare ed è solo la prima futtata il primo giorno che si presentavamo noi come sindaco tre il trunvirato il trunvirato se convinciamo a Mattia ai 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 Mattia Mattia no vabbè a parte gli scherzi noi non so in politica non so se ci entriamo se ci entriamo vediamo come noi noi la politica dei carte scoperte cioè ma i giovani o il nuovo dice no ma a parte il nuovo ma Pietro parla al fronte del porto noi venimo al fronte del porto che vuoi dice non c'avemmo problemi di sorta che ti serve non c'avevo dei scherzi nell'armadio sei giovane che ti serve c'hai bisogno di questo io sono questo io sono tutti ex amici e alla fine non è così è brutto io so prima non c'avevo la mia che ti serve che ti serve per far te da parte ti serve questo e noi ti diamo questo tu Enel che ti serve questo ti diamo quest'altro basta ma noi proprio però organizziamo la trasparezza Massimo guarda davanti alle telecamere favo tutta davanti alle telecamere ricordi il 5 stelle quando diceva che faceva le riunioni sì streaming analista le riunioni streaming ma sai che io non ci soppresentavo noi che favo l'accordo e dico la web ma perché che mette la cosa sai che l'ipad è lì e poi mi hanno favo l'accordo ma favo davvero noi la fate in biblioteca mentre studiate è diretta madonna con tutti i vostri compagni di biblioteca anche Nico che è un amico di facebook ciao Baraglio in quota giovane democratico e Civati come te Civatiano come me ma io quando gli ho chiesto a proposito quando gli ho chiesto chi offriva il caffè dei Civati era coso come si chiama quello di terza strada Paravati Paravati terza strada esegui mai quello che fai le foto quelle belle foto sì 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 Paravati Paravati c'era Paravani Paravani era lui era lui quello che offriva il caffè di Civati e qui dicevo io se due euro me ne do pure però il caffè di Civati ci rientra delle spese e non si è trovato non mi ha fatto la campagna però mi dice che ora c'ho un vita a Cività Vecchia davvero è appunto interrogativo e Pietro forse ti paga la cena forse anche poi io se lo scordate a dirglielo ieri a Mattia che ha detto forse siete voi che me la dovete pagare però perché voi sapevate e mi avete detto niente beh che c'entra perché avevamo visto sciupato voi fanno pagnare un pochettino sì io Sipiero io ho visto sciupato la corna tu devi vincere io sono esterno quindi posso parlare non voto qua io dico per Sipiero grande a Sipiero alla cena comunque però la pizza sì la gorla io non so mai stato la gorla voglio andare a mangiare la pizza la gorla la gorla la figura con tranquillità semplicità semplicità il gorla nagnellino tu hai detto nagnellino ti dai l'ha detto no non era gorla però sì era gorla e invece ha detto fa proprio parlare a Pantanelli Pantanelli lui ha detto no gorla e nagnellino Pantanelli con Pantanelli in dibattito avrebbe pure fatto ma no perché su Pantanelli non è un'altra storia si sentrò ma in tutto questo il centrodestra dove stava non si è capito io ho saputo che oppure in descrizioni che qualcuno vuole pure riformare a N quello pure a Roma ma tu stava fiammando data la cosa quella lì come si chiama la pischelletta a Meloni a Giorgio a Giorgio abbiamo dato la fiamma ma penso a te ti ha capito ma a N ancora stiamo ma come stanno avanti ma invece stanno avanti la testa secondo me sta a fare una strategia del silenzio stanno un attimo lì un attimo che dicono ma ci aspetta perché siccome a sinistra litigano a sinistra litigano noi stavamo se zitti almeno stavamo pura non litigamo però zitti litigamo zitti se finissi come a Parma con il sindaco Grillino ma il sindaco Grillino ma io non sei secondo me come a Pomezia è vero Pomezia Parma Pomezia Cimita vecchia il tuo spocco al mare Pomezia secondo me a Cimitecchia stanno là perché poi stanno lavorando normale ma zizzagnano i comitati è vero c'è un problema che i comitati ma il comitato abbiamo una parentesi tu sei comitato c'hai il 0,000% ma vuoi chiedere al 5 Stelle le fan passo indietro ma come fai? beh poi fanno accordo chiedite candidato un tuo rappresentante ma vuoi dire una corazzata una burce che dice al coso spostate che passo all'elefante spostate che passo io insomma c'è il fermento c'è il fermento noi vedremo quali saranno la guida c'è la riemonte la guida Michelin c'è stava l'angoletto che veniva facciamo un appello a qualche giornalista di un piccolitano nazionale venite mandate qualche penna Repubblica Corriere la Sera una stampa il fatto quotidiano il giornale venite è il vero laboratorio politico d'Italia venite noi per invitiamo una che parla a tavolo con monti e con moscherini non è da tutti non è da tutti l'ha capito pure Zeus se non è Zeus l'ha capito Zeus ancora guarda purello Zeus cioè la vita da caglia è la nostra Zeus non la tua hai capito te che te frega te magni ti faccio mangiare vive da fascià ma un caffè fu Galeotto alla galleria Alberto Sordi capito ma chi avrà scattata questa foto però è bello perché in foto vedi bello scuro neanche ti posso riconoscere capito non è non è dopo non venire a cercare noi ci ammazzano con queste cose capito tu sei incognito che te frega però ancora so 22-22 c'è in camminare in Italia ci chiama in Italia ci chiama almeno 10 minuti da Pisa sempre 10 minuti 5 almeno perché non si sbaglia in Italia io se ne vorrete qualche altra volta sarà un vostro spiegato anche con Mattia Mattia è morto ormai sta nei suoi pensieri faremo una bella rassegna stampa finalmente leggemo il giornale ritorneremo torneremo al Bar Fontana a Bacchidentri come vuole la tradizione come vuole l'inizio guarda gli albori guarda Tomasini che passa guarda non vuole tutto nessuno vuole che vive è quello napoletano che interviene sempre Cozzolino detto Cozzolino voglio dire la mia che si è incazzato con una bestia che ce lo teniamo che mi piace per colore che fa la storia dell'animazione che cosa però sì un abbraccione a tutti salutiamo il grande professore buon anno a tutti da Gita Vecchia buon anno a tutti buon anno a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao